Ragazzi, ma questo caldo, quando vuole finire, maledetta estate, voglio l'inverno, datemi l'inverno, l'inverno! Ragazzi, benvenuti su questo nuovissimo video. Oggi vi porto un gameplay molto molto bello ragazzi, un gameplay sempre appunto in custom, e vi ricordo ragazzi che le custom sono quei game organizzati con appunto dei player di un certo livello, quindi non sono delle pubbliche, non sono le arene, ma sono dei game molto 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 più alti a livello di skill, perché appunto si incontrano solamente dei player che comunque hanno vinto comunque un qualcosa del denaro appunto durante i tornei di Fortnite fino ad oggi. Quindi ragazzi è stato un gameplay molto molto bello, abbiamo fatto un clutch pazzesco io ed Efesso, perché sì ragazzi adesso io le trivole appunto le farò con lui. E quindi sì ragazzi, ricordatevi questo video perché è successo il finimondo, ma io e Efesso comunque siamo riusciti a fare un clutch pazzesco, e ragazzi in endgame ne vedrete delle belle, fidatevi di ma... Quindi ragazzi come ogni video vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questo video, per supportarmi ragazzi come sempre, di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina che vi avviserà ogni qual volta io caricherò un video, e inoltre ragazzi vi ricordo di utilizzare il codice creatore nell'item shop di Fortnite, e qual è il codice creatore? Lo sai, certo che lo sai, lo sapete tutti ragazzi, codice creatore croatonista, è semplicissimo. Quindi ragazzi ora non perdiamoci in chiacchiere, ricordatevi questo fantastico video, e ragazzi godetevelo tutto perché è bellissimo, buona visione ragazzi. Sembrerebbe di... No, no, non c'è nessuno. No, vado sotto la casa io. Io vado a portello, portello e portello, portello e portezza. Che cazzo qui ti sto dicendo? Che è un nuovo ristorante? Portello e portezza. Se contestavo non la ridevo. No, vabbè, ho guardato bene. Cosa diverti a far pieno? Sì, non c'è niente da fare. Siamo 56, che schifezza. Vabbè, l'endgame però sarà... Una quarantina. Sì. Vabbè, niente di che. Vabbè, intanto porteziamo il... Io non ho un movement, eh. Io sì. È una gianta. Io non ho una dignità, ok. Diamo. Volete un fanteria viola? Eeeh, no. No perché sto scontrando una cosa... Niente, non parlo. Mi disposto. A me c'è una mitraglietta, se la trovate. Io devo farmare il ferro, ne ho 20 in sto game. Io 63. Vai andiamo. 56. Va, comincio a fare le macchine, va. Ma, questo qua. Io vado verso il magazzino muffito. Prendo la cosa? Eh, sì, ci conviene. No, siamo a fare lì il ferro. Facciamo, ne facciamo un po' lì. Dove ci mettiamo? Potremmo metterci... No, l'hanno già preso il posto che volevo io. Basta. Questo è l'unico. Se questo però si leva. Se questo si leva, boh. Guarda che mi spara, eh. Che dite? Dove ci mettiamo? O volete mettere lì dal campfire? Io non ce lo faccio. No, non ci arrivi. Ora ci mettiamo qua per forza. Non l'abbiamo scelta. Ma solo che se mi spara un nanosecondo prima, sono pazzesco. Ma lì c'è uno camperato? Da solo? Tre camperati. In un singolo box? Eh, dentro al container. Facciamoci l'allora. 42, 84. Ah, la femmina. L'ho fatto malissimo. Qua sotto. Qua sotto. Clappato uno, clappato uno. Quello che vuole, bianco. La femmina. La lasero. Ma che c'è gente da vuole? Ripresa di ruolo. Bianco. 40 HP. La f*** con i capelli bianchi. Ripresa sotto io. Ok. Bravo cucciolo. Splash, ragazzi, qui. Uno è scappato, eh. Sì, uno è scappato. Passiamo un po'? Eh... O facciamo il tunnel verso il coso, tanto abbiamo un sacco di mazze. Sì, sì, facciamolo, facciamolo subito, però, perché sta partendo da te. Io uso il legno. Io uso il legno e vado di mattona, allora. E vado di ferlo. Se vuoi il tuo tunnel, io. Ah, è vero, però dovremmo fare il... Aspetta, no, allora, facciamo una cosa. Butto tutti i mazze qua. Ho buttato tutti i mazze, vado a prendere indietro. Non ho proprio mazze. Ok. Non vado a prendere. A me non potete continuare a fare il tunnel, eh, F. Eh, non so quello che ho usato, però, Martini. Dimmi cosa hai. Ho buttato tutto. Dietro lì te ho buttato tutto. E di mattone ce n'hai più, eh? Sì, sì, sono full mattone di nuovo. Ho proprio tutto io. Io mi fermerei qua, proprio all'altro. Va, 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 ti seguo, ti seguo. Ok. Senti qui. Ho fatto un box sopra di te, io, F. Ok. Oh, però, 51 non male, eh. No, no, infatti, ti ho detto, l'endgame sarebbe stato bello. Qui, rega, com'era di stare a andare, però, secondo me. Sì, sì, andiamo, andiamo, andiamo. Io mi metterei qua dove ho pingato. Tu ping e ti seguiamo, vai tranquillo. Andiamo. Oh, così? Sono uscito per me. Sì, è normale. È vero. È vero. È normale, ma ho preso 35. È vero. All can fire, tranquillo, all can fire. Sì, comunque, questa cosa non l'ho capita, se è fatta di proposito. Io metterò proprio qua. Vai, 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 vinta, vinta. Mi laserano. 32. Ok, venite qua. Non so. Non posso metterla qua, che è rottura di... C'è qualcuno qua sotto. No? 14, 24. 42. 84, 84. 42, non ho cato, non ho cato. Mamma mia. Ho fatto tipo Peppe Fetisci, ho preso proprio i piedi. Un bambino di me. Sono apposta, sono apposta. Sono apposta. Sì, sì, salgo, salgo. Non è quello che me. HS? Qui, qui. E se invece padassimo in quell'altro modo? Però padiamo con il tetto in quel modo, così ci andiamo a bassi. Sì, sì, sì. Quindi lo mettiamo qua. Sopra non vado. Andiamo, vado. Ragazzi, metto sopra il metallo, ok? L'ho pingato. Oppure posso prendere... Forse posso prendere like. Like il mio, like il mio, like il mio, like il mio. Vai, vai, vai. È nostro, è nostro, è nostro. Non cado questo qua? Ce ne sono... Ci sono gente che vola, ragazzi, eh. Lasciela. Dai, ho vinto da quel giocchino. Non ho vinto. Non ho vinto. Occhio lì, ragazzi. Occhio lì. Ragazzi, riuscite a buttare il quadro. Padano, padano, padano. Si fanno cadere forse, ragazzi. DGL. Stendo. Raga, ditemi se buttavo giù. Paralto, bianco, bianco. Quello lì, bianco, ragazzi. One hit, è morto. 42, 42, bianco, bianco. Io mi attacco le loro strutture. Vai, vai, vai. Si, brosè, non legassi l'stand. Io sono mai grande, ragazzi. 150 delta, uno lì. Ho collegato le strutture. Ok. Vieni qua, voi. Faccio uno. E' pieno. In aria, ragazzi. Bianco, bianco. Ragazzi, saliamo lì sotto. Saliamo lì sotto. Dobbiamo. Dobbiamo farlo, ragazzi. 7 like, secondo me. 24. Rappato questo. Ok, è rappato. Nesta uno like, ragazzi. Non possiamo prendermi, sta like. Sono scesa pure io, ragazzi. Sì, sono scesa pure io, ragazzi. Ma porca puttana sta coso, che schifo. Noccato con i naik. Noccato uno. Mi ha arrivato la killa. Bravo. Noccato un altro. No, stavo vicino a te. 24. Io ho finito i mazzi quasi. Ho 300 di metallo. Ok, vado io, tu spano. Vieni, vado, vieni, 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 vieni. 23 blu. 23 blu. Dopo 24, 24, 24, 23. Ancora blu. Mi metto sulla montagna? Bianco, quelli fuori 6. Uno bianco. Mi sono collegato alla struttura. Vabbè, tranquillo. 6, 6. Non facciamoli salire? No, 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 infatti, infatti, infatti. Blocco tutto, blocco tutto, blocco tutto, eh. Due di due. Hittato? Vado, vado di impulso anch'io. Vado di impulso anch'io. Fatto malissimo. Mi devo shillare un attimo, eh. Sono sopra, sì. Uno gli ho fatto malissimo. Sì, dobbiamo andare giù e clapparli, eh. Sì, sì. Scendo un po'. Ma cado uno. Let's go! Bravi, ragazzi. Bravi, bravi, bravi. Easy. Quanto che ci abbiamo portato a casa? Sei. E sei, dodici, e tre, quindici. Non male. Digi. Grazie.